Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4 Dopo una bella pausa ritorno a giocare un po' con la mia partita magica Infatti ho aggiunto dei lotti molto carini Ci sono state delle modifiche anche per quanto riguarda queste neocoppie che hanno avuto le bebè Insomma il tempo è andato avanti E ho delle cose da farvi vedere e da raccontarvi Io non so voi, ve l'avevo già raccontata questa cosa Ho uno sano rapporto con i magici Infatti cerco sempre di tenere questa partita separata dalle altre Quindi la mia partita magica deve essere a sé Perché tanto lo noto da sola che per quanto mi piace e adoro i pellegrini questa partita Anzi è stato anche grazie a Lopi Mannari che me l'ha fatta riprendere in mano Ho continuato la storia perché con la scusa di esplorare un game pack nuovo Ho ricominciato a giocarci Solo che poi ritorno nel mio periodo di pausa Nel senso, poso la partita magica e riprendo quelle con gli umani Con i sim normali Boh, non so perché faccio così Però lo ammetto, mi piacciono tantissimo Eh, solo che ogni tanto ho bisogno di pause Gioco a step in questa partita Comunque, allora, voglio mostrarvi appunto i nuovi lotti aggiunti A questo punto uso come scusa andare anche nelle mie famiglie Per quanto riguarda gli anziani Non ci andiamo da Alice e Lorenzo perché non ho novità con loro Stanno semplicemente facendo i nonni Infatti è da poco passato il weekend Le bambine, le nipotine sono state da loro a dormire tutto il sabato e la domenica Si sono divertiti, poi li portano in giro Come vedete qui ho creato un bel parchetto Li fanno fare attività Insomma, leggono libri Si divertono tantissimo ed è anche un modo per far legare nonne e nipoti E tenere la famiglia unita Poi mi piace quando ho dei nonni in partita fare così Quindi vi faccio vedere al volo il parco E poi invece andiamo da Stella e Colin Che come notate Amanda è diventata bambina Avevo proprio voglia di realizzare un bel parchetto qui Perché poi guardate che bell'ingresso Cioè sembra proprio l'ingresso per un parco Quindi, allora questo in realtà è preso dalla galleria Però io ho modificato tutta questa zona Ho modificato anche un po' i colori del parco eccetera Comunque appena si entra c'è questa bella altalena Ho aggiunto io gli scacchi Come l'albero con gli uccellini Perché questo per me è un posto incantato, magico E ci devono stare questi elementi Poi ho aggiunto questo bel falò L'arrampicata se non mi sbaglio C'era o l'ho aggiunta io Il bagno c'era Anche questa piscina Sì, è una piscina Sembra un laghetto ma in realtà è una piccola piscina E io ho aggiunto questo angolo Un po' per i bambini Visto che adesso appunto ho le bimbe E quindi vengono qua a giocare con le bambole Oppure osservano il cielo Mentre questa zona è pensata anche in vista del futuro Quando saranno adolescenti che verranno qui con il loro gruppo di amici E passeranno la maggior parte del tempo in questo loro parchetto Come ritrovo E quindi ho messo ecco la musica Candele Anche libri magici Insomma le sedute In modo che stanno qua insieme A passare del tempo Meglio da questa parte Era già organizzato così C'è il grill e i tavoli Io ho aggiunto questi decori con le candele A tronco Che mi piaceva molto di più Comunque si chiama Glimmer Brook Park Lo trovate subito Le panchine E questo è il parchetto E' adorabile Io trovo che qui in mezzo ci stia benissimo E siamo da Stella e Colin Qui anche sono cambiate delle cosine Perché allora il giardino l'avevate visto Questo l'avevo ben organizzato Finalmente Amanda essendo bambina Può utilizzare questo angolo del cortile Quindi ha la sua casa delle bambole Ha il set da medico La radiolina Qui intorno al falò Si mette con la sua famiglia Con il suo gruppo di amici Si guardano dei film E ok C'è anche la piscinetta Va bene il cortile L'avevate visto Qui c'è il laghetto Ma da questa parte La novità è che Ci sono i coniglietti Perché Amanda adora i conigli Ecco qui ce n'è uno Guardate quanto è carino Quando è andata in campagna Con il padre Che poi Colin Sapete che ama pescare Quindi lui va sempre alla ricerca Di laghetti Di posti Per pescare Si porta spesso Amanda con sé E mentre lui pescava Lei si era messa a giocare Con i coniglietti Gli ho fatto fare amicizia Tanto da sbloccare il ceppo E così gliel'ho messo qui in casa Come vedete qui fuori Hanno anche degli animali speciali Come la libero La drago Il fuoco fatuo E lo spirito della polvere Che a momento Non si vede Quello esce di sera Perché sono stati In campeggio A Granite Falls Sempre per Colin E questi Insetti speciali Ecco Magici Li ho voluti mettere qui In evidenza Lei è dentro A fare Una composizione floreale Lei ogni tanto Vedete Fa delle composizioni Alcune Le riescono bene E posso mettere la campanula In modo da dargli Quel profumo di eternità E non Non si rovinano Altre invece Che non riesce Questo qua era bellissimo Paradiso di mezzanotte Si rovinano Però vabbè Poi ce lo vendiamo Ce lo vendiamo E sta a posto così E allora Novità in casa Novità in casa Ho fatto Questa bellissima foto Alle due cuginette Quando erano entrambi Ancora bebè Ho appeso Questo set Da pesca Uscito con il kit Per Colin Visto che lui Ama la pesca E questo qui Così come le borse Poi hanno anche Questa foto Le due cuginette Vabbè Amanda Amanda è andata un attimo A scuola Ma la facciamo uscire Prima Mentre queste sono state Le foto fatte A Granite Falls Quando Amanda Era ancora bebè Infatti appena tornati Poi è diventata bambina Bellissimi E le ho fatto la cameretta La porta è stupenda Perché da fuori è così Mentre da dentro è così Con queste foto Attaccate Poi ci sono le sue foto Con la famiglia Stupendo E varie statuine Il suo peluche preferito Il vampirello E l'angolo Le librerie invece È rimasto E qua sopra Ci ha aggiunto Ecco le collanine Portagioie Insomma Che usa E questa È la cameretta Poi Non c'è Nessun'altra Novità Ah sì Ho fatto questa foto E che da poco È passato anche l'inverno Questa foto Con i nonni Eccole qua L'albero di Natale La piccola Eva E Amanda Anche Eva Tra poco mi diventa bambina Ancora bebè Però stavo finendo Di fare le varie Interazioni E basta Questa è la stanza magica E ok Qua non c'è Nessun'altra novità Va bene Allora La novità È nel regno della magia Infatti Adesso noi Facciamo lasciare La scuola In anticipo I vestitini Che le ho scelto Sono questi Qui allo zainetto Molto carina Vabbè Però può rimanere così Anzi Perché fa freddino Pure questo vestitino È tanto carino Vabbè Resta così Visto che la primissima volta Che Stella La porterà nel regno della magia Volevo farlo con voi E Volevo darle Dei doni I suoi primi doni Quindi Diamole Come regalo Amichevole Il globo Familiare Del farfaniglio Ragazzi Farfaniglio Che è una composizione Di farfalla E coniglio Cioè per lei È perfetta Come vi ho detto Ama i coniglietti Un altro regalo Molto molto speciale Però lo potrà usare Soltanto in adolescenza È La bacchetta Della creazione astrale Per lei ho scelto Questa qui Con la stellina Mentre Stella Come bacchetta Ha questa qua La bacchetta Della foresta Silvestre Ok I regali Sono piaciuti Oscar Dai Mi ispira Oscar Ok Magia Famigli Invocalo Oscar Si Ed eccolo qui Quanto è carino Allora Direi di andare Subito Nel regno della magia Perché anche qui C'è una bella Novità E adesso È proprio come se fosse Una scuola Di magia Eccoci qua Allora Portiamo qui Amanda Oddio Tra poco loro Mi diventano Tutti quanti adulti Ragazzi Ed ecco qui La nuova Scuola Di magia Presa dalla galleria Ovviamente È Stupenda Stupenda Guardate che forte Come sembra Che siano anche Sospesi Nell'aria E come Hanno aggiunto Elementi Sospesi Nell'aria Cioè Fantastico Ci hanno messo Anche dal debug La serra La serra Che noi abbiamo Abbiamo Qui Eccola L'hanno messa qui Infatti Non si può andare Finta Però Rende Tantissimo Tutti questi poi Queste luci Intorno Questi cristalli Allora Iniziamo dal fuori Qui fuori C'è appunto Una piccola serra Dove io Ho già Piantato Gli ingredienti Che servono Veramente Per le pozioni Quindi serve Il frutto del drago La mandragola La valeriana Il fiore della morte Le patate La salvia E le rose Ma se mi sbaglio Anche il prezzemolo Mi serve Però vabbè E quindi Loro ogni tanto Vengono qui E si prendono cura Del giardino Anche i bambini Possono comunque Quando hanno raggiunto Un livello Mentale Eh sì Un po' più alto Aiutano con Il giardinaggio E quindi È bellissima Questa idea Poi Come è strutturata La scuola Ve la faccio vedere Prima dall'alto Fatta così Quindi Allora Di qua c'è Una stanza Tipo ripostiglio Con le scope I globi Libri Libreria Spezie E tutto Perché Qui accanto C'è la stanza Con il calderone Quindi è come dire Mi servono gli ingredienti Vengo di qua E li vado a prendere Per esempio Qui ci sono poggiate Delle varie bacchette Un altro globo Del drago Ci sono premi Libri Insomma Mi piace tantissimo Anche tutti i decori Che hanno usato La lavagna E ok Allora La zona centrale Come vedete C'è la scala La scala grande Di qua Si va Ai bagni Ecco Poi Si sorpassano Questi archi E ragazzi Qui Dentro la libreria Cosa ho messo io Ho messo le foto Dei miei simi incantatori In questo caso Alice e Lorenzo Sono stati i primi Che sono venuti In regno della magia Quindi Li ho messi E poi Alice La loro figlia Poi metterò la foto Di Amanda Lei Da grande Un'altra incantatrice Insomma Mi è venuta così L'idea E mi è piaciuta Poi Allora Ah si Da questo arco Andiamo di qua Da questo arco C'è la prima classe Guardate che Quanto è carina Come sembra Proprio una Una classe Con gli zaini I libri C'è anche Calderone La cattedra I progetti La lavagna E E di qua Io però Ho aggiunto Questo qua Per i bambini In modo che Ecco Quando vengo Con i bambini Posso fare Le sue attività Ecco Se per esempio Vi ho fatto vedere In altre partite Sto usando Tra virgolette La scuola In questo caso Io Intanto devo venire Con stella In regno della magia Porto i bambini E fanno Le loro attività Quindi In questo caso Lei sperimenta E fa altre cose Questa stanza centrale È la biblioteca Magari Magari Lei la metto qui A cercare Tomi È la biblioteca Quindi uno viene qui Si legge libri Oppure cerca Tomi C'è sempre una scrivania C'è questo Un po' appeso Ok C'è la scrivania E va bene Poi Da quest'altra parte C'è l'altra classe Lavorata a casa Sì C'è l'altra classe Fatta così Un po' più da grandi Questa Con i banchetti Un po' più da grandi E termina il corridoio Con una stanza Ragazzi Perché qua Il bello È che potete venire Anche a dormirci Potete restare Quindi far finta Che il vostro gruppo Vive qui E avete tutto a disposizione Avete i bagni Il calderone Per mangiare Anche perché Gli incantatori Basta che poi Quando acquisiscono La magia Vi realizzate I cibi Quindi Nemmeno dovete cucinare Oppure sul calderone Cucinate Potete fare Il macchino Il formaggio Il chili E il cioppino Quindi avete Proprio tutto a disposizione Andando sopra C'è un'altra zona Così libreria Salotto Questo è vuoto Infatti guardate Che carino C'è il balconcino E si vede da giù Poi Di qua C'è un'altra stanza Con altri due letti Ci sono i bagni Con le docce Poi Questa è un'altra stanza Calderone Guardate sempre Lavagne Dettagli Bellissimo E Qui anche Vedete Un'altra stanza C'è sempre salotto Libri Pozioni C'è questo bellissimo Caminetto Un'altra stanza Calderone Per imparare Qua non c'è niente E Questo è il sopra Andando ancora più sopra C'è l'ultima stanza Con sempre i due letti Quindi fino a 6 sim Possono dormire qua Fate un bel gruppo di 6 sim E questo è l'ultimo salottino Così E poi Si va ancora più su Perché c'è questa stanza Calderone E da qui potete andare Nel vicolo degli incantatori E poi c'è l'osservatorio Messo così Bello 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 Guardate E ok E questo ragazzi È il regno della magia Quindi è a scuola di magia Allora Lei ha altri due punti Quindi Si Dai Questo Lanciatore di incantesimi E due lante magistrale E anche con lei In pratica Ho riempito tutto Ho finito E qui Le manca soltanto Una magia Maliziosa E basta Cioè Con stella ho fatto Poi mi concentro Sulla Su Amanda Ad essere Amanda Dove sta Elfaba Eccola qua Vai qui Ci facciamo imparare Magia Insegnare magia maliziosa Così mi da l'ultima E ho fatto Ok Ha scoperto un nuovo incantesimo La furia Grazie Abbracciamola Ma lo sai che qui C'è la piccola Amanda L'ho portata Oh brava Cara Brava Brava Che poi Lei l'aveva un po' modificata Resa un po' più carina Perché mamma mia Elfaba Faccio l'impressione Almeno un po' più guardabile E ok Quindi Ha finito Sì Bravissima Stella Perfetto La bimba Invece qui Sta sperimentando Ancora E Io la bimba Al momento Non posso insegnare Niente Perché appunto È piccolina Infatti Non c'è proprio magia Non c'è Niente Su se stessa Magia C'è soltanto il famiglio Oppure bere La pozione di bisogni abbondanti E niente Se ne parlerà Nel momento in cui Diventerà adolescente Ok Lasciamo loro E andiamo a Moodwood Mill Invece Cosa succede A Moodwood Mill O meglio A casa di Leo E Lux In pratica L'ho convertita In una specie Di Fattoria Non è più Una casa Fuori dalla rete Ormai loro L'hanno sistemata L'hanno ripulita Qui fuori Non c'è più sporcizia Tutte quelle cose Rotte Insomma È ripulita E come vedete Dal cartello È diventata Una specie Di fattoria Che aiuta La comunità Nel senso La nostra Lux Che adesso è qui Che sta facendo La vendita Del mercatino Come vedete Le ho proprio Creato Un chioschetto fisso Qui fuori casa loro Ho messo Questo bel cartello Altri cartelli Qui Non è ancora Riuscita A diventare L'alpha Del collettivo Di Moodwood Ragazzi è difficile Battere Christopher È davvero forte E lei ha tanti punteggi Alti No Ma È davvero difficile Una volta che lei diventerà L'alpha Le lascerò il collettivo Di Moodwood Perché Come vi dissi Anche negli episodi precedenti Rispetto alle zalle selvatiche Mi è sempre piaciuto Mi piace proprio L'ideale Che ha questo collettivo Il fatto di prendersi cura Della comunità Dei lupi Insomma Anche il rispetto Dell'ambiente Del verde Di tutto E infatti Lei cosa vende Alla fine Vendono delle risorse Che possono aiutare I loro amici La loro comunità Nel senso Ecco Lei fa Le marmellate Oppure Dalle galline Stamattina hanno preso L'uovo fresco Lo stanno vendendo Adesso hanno Vedete Hanno anche una mucca Quindi Vendono il latte fresco Se capita che Sfornano Una pagnotta di pane Qualche dolce Qualche cibo particolare Lo metto in vendita Delle statune di legno Che crea sempre lei Per decorare le case Eccetera Ecco Queste Queste specie di Crocchette Farine Le ricavano Da Gli insetti Infatti adesso Hanno messo Gli scarabè Bombardieri Ogni cosa Insomma Che può servire Alla comunità Loro la vendono Si prende sempre cura Di questo Orticello comunitario Che ha qualche bug Come vedete Comunque si prende cura Di questo Viene sempre qui Nel suo branco A mettere risorse E a prenderle Quindi comunque Mi piace tantissimo Questa Questa comunità E quindi alla fine Come vi ho detto L'ho Convertita A una piccola Fattoria Quindi non solo Le risorse sono Per loro stessi Ma proprio Le vendono Per gli altri Qui c'è anche Un pezzo di terreno Che va un attimo Sistemato Tu hai Tu hai munto Accarezzala Accarezzala Facciamoli un po' Di amicizia Racconta Una barzelletta La piccolina Mamma mia Ha la follia Lunare Prima si era lamentata Invece che le facevano male I denti Piccolina Rudy Ma quanto è bella Ragazzi È bellissima Vieni qua Accarezzalo È un bel lupo maschio Ripeto Ho preso dalla galleria Ho proprio cercato Sotto L'hashtag Wolf E È stupendo Girati Rudy Fatti vedere Guardate quanto è bello Mamma mia È meraviglioso Quindi Ci voleva questa giunta Anche qui In famiglia Accarezzalo Lodalo E gli dai Un gran dolcetto Perché comunque È Un golosone Ok Qualche altra novità Qui niente Mi tengo Il garage Così Mi piace tantissimo Perché ho aggiunto Anche un letto Se per caso Domani Ripeto Diventerà Lei l'alfa del collettivo E dovrà addestrare Qualche neo Lupacchiotto Posso ospitarlo Qui C'è anche la palestra Insomma Questo Qui ci sono i polli Il tavolo Per lavorare il legno L'ho messo qui Lui tra poco Va al lavoro Fa sempre il lavoro Partai Ma Eva Oh mio dio Manda a casa Fa sempre il lavoro Part time Del pescatore Al momento Ehi No no Non si fa eh Chiedi di non combinare Pasticci La sua cameretta Accendi È sempre così Mannaggia Per la furia Di prima Del dente Che gli faceva male Ha rotto anche La casa delle bambole Anche lei Ha la foto Con la cuginetta Ha la foto Con Rudy Guardate quanto sono belli Così Mentre da questa parte Sì Sempre con la cuginetta Mentre da questa parte Su questo muro Ho appeso Le loro foto Con Rudy Era proprio appena arrivato Quindi ho fatto Le foto Così E questa è in grande Ed è questo E quindi Questa è l'idea Che avevo Per questa Famigliola Per questa comunità Che mi piace tantissimo Come vedete I polli Questo è Pepo Il gallo Vanno in giro Qui liberamente Perché il pollaio Non ha recinti Mi piace Che scodinsolano Qui fuori Niente Con i vari cartelli Si è fatto anche sera E Mi piace tantissimo Peccato Che ho questa cosa Che a me Ve l'ho raccontato No Boh Non riesco a giocarci Per tantissimo Tempo Come se A un certo punto Non so Cosa far fare A questi magici Capite come Cioè Non so nemmeno io Spiegarvelo Arrivano anche le volpi Perché qui ho messo Come challenge Le volpi Per dare un po' Di difficoltà In più Comunque Tut tesoro È finito il mercato Quindi basta per oggi Eccola qua La volpe Scaccia Fantastica Ed ecco anche Il Christopher Che ogni tanto Magari viene a chiederci Allora Sei pronta A combattermi No No perché Veramente tu sei Troppo troppo forte Pepo Ciao Pepo Che carino E restando Sempre a Moonwood Mill Per ultimo Ma non meno Importante Io Ho creato Un ritrovo ruziale Vi ricordate Che qui Ho fatto sposare Leo Lux Però Con un lotto Preso dalla galleria Poi Visto che Infatti Sono con Stella Voglio mostrarvelo In modalità Vivi Questi poretti Purtroppo Non hanno mai avuto Un vero matrimonio Era appena uscito Il mio matrimonio E io Per provare il municipio Gli ho fatti sposare A un municipio Di Tartosa E basta Non hanno mai avuto Una cerimonia Viera e propria Quindi Volevo Creare Un lotto Nel pieno Del verde Sempre Con lo stile Rustico In stile Campagna Però Non volevo Occupare Un lotto A Danford Perché lì Non volevo Occupare Un lotto Per un matrimonio Voglio tenermi Quei lotti Liberi Per Ecco Se mi servono Più case O altri tipi Di lotti E allora Ho detto Lo metto Sempre qui A Moonwood Perché mi piace Tantissimo Comunque Questo angolo E ve lo mostro È completamente All'aperto E l'ho creato Proprio Stile Americano Prendendo spunto Tantissimo Anche dai film Dalle serie tv Insomma Che Arredono In questo modo Quindi appena Si entra Qui a parte Le bandierine Trovate Il cartellone Questo Libro Dove gli ospiti Ecco scrivono Dei pensieri Per gli sposi Eccetera E ho messo Tanti Tante superfici Libere Per metterci Delle foto Io in questo Caso Ecco Ho anche Le loro foto Da Sposi Sì Semplicemente Perché Come vi ho detto A loro Ho fatto Soltanto Delle foto Tantissimo Semplice E qui Qui sopra A centro Posizionatevi Qui ci mettete Il buffet C'è anche La fontana Guardate 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 quanto è bello Questo angolo Qua magari ci mettiamo Ecco gli sposi Quando si sono Laureati E No Questa la mettiamo Qua Aggiungi Una cornice Poi le foto Le ho finite Se no Questa foto Potete metterla Ecco Anche qua Potete metterci Un'altra Candela Comunque Guardate quanto è bello Questo angolino Questo albero Con le lucine Uno si avvicina Guarda tutto il dettaglio E Ok Questo invece È l'angolo bar Vedete come fa bello Cioè Adoro Non vedo l'ora Di farli sposare qui Ci sono ancora i decori Del giorno dell'amore Che poi scusate Ma quant'è E domani Già hanno messo i decori Vabbè Comunque qui Si balla C'è la pezza da ballo Con la musica E Ho messo il tetto In questo modo Che così È un po' di paglia E Ghirlande Così Poi candele Punti luce Ovunque L'altro albero Con le luce È qui E Questo qui L'ho attaccato Con il debug Questi festoni Con sempre La ghirlanda Niente ragazzi Mi piace tantissimo Cioè Era tanto adesso Che non organizzavo Anche un matrimonio Cioè Un lotto matrimoniale E Anziché al chiuso Volevo Lo volevo proprio Comitamente All'aperto Per i miei sim Amanti Dell'aperto E per oggi è tutto ragazzi Spero tantissimo Che questo aggiornamento Per quanto riguarda La mia partita magica Vi sia piaciuto Ripeto Ci gioco veramente A singhiozzi Però io Le adoro Magari Se mai Se mai Uscirà Un game pack Con qualsiasi Cosa Qualsiasi Uscita Sulle fate Potrei riprenderlo E continuare La loro storia Ok Noi ci vediamo Al prossimo video Tanti Mi piace Commenti Ciao 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 Grazie a tutti.